Ci sono brani che rimangono immortali, dei classici e magari lo diventano, pur provenendo dal mondo della musica classica e dell'opera, anche in quella pop. È il caso di Nessun Dormo, una melodia cantata da Luciano Pavarotti, che forse per primo ha tentato in passato di rompere quel muro che separa i generi diversi di musica, ma anche Andrea Bocelli che ha riproposto più volte questo brano. Ecco che qualche tempo fa lo ha fatto infrangendo un'altra barriera, quella tra musica e sport, che poi forse non hanno neppure barriere ma sono comunque considerati mondi differenti, semplicemente. Ebbene l'artista toscano durante il suo show all'Allen Stadium di Zurigo di fine novembre ha intonato uno dei suoi successi che è appunto il Nessun Dorma, dedicandolo a un fan speciale, cioè Roger Federer. Il campione del tennis, infatti, ha dato l'addio ai campi, almeno a livello professionistico, durante un'emozionante cerimonia in occasione della Lever Cup lo scorso anno. Tuttavia dal tennis non si è mai allontanato davvero. È stato per esempio ricordato a Wimbledon, all'Halle, all'edizione Vancouver della Lever Cup, al Rolex Shanghai Master, ma è tornato a casa nella sua amata svizzera, ha assistito al concerto di Andrea Bocelli all'Allen Stadium di Zurigo. E qui, alla fine dello show, è stato colto di sorpresa. Il tenore, infatti, gli ha dedicato il brano di chiusura, appunto quello citato, e lo ha chiamato sul palco. A quanto pare stasera abbiamo una leggenda vivente tra il pubblico, Roger Federer, ha detto appunto Bocelli. Per me sarebbe un onore dedicargli l'ultima aria per le emozioni che ha regalato a tutti e vorrei invitarlo qui con me sul palco. Il tennista, visibilmente commosso, ha raggiunto il tenore tra gli applausi del pubblico. Ma che cos'è Nessun Dorma? Beh, esattamente è una romanza dell'opera lirica Turandò di Giacomo Puccini, ricordata tra le più importanti della storia musicale globale, cantata nel terzo e ultimo atto dell'opera dal principe Tartaro Calaf, che nella solitudine notturna di Pechino aspetta il sorgere del giorno per conquistare l'amore della principessa di ghiaccio Turandò. Tantissimi sono i tenori che l'hanno portata in scena, a cominciare proprio da Luciano Pavarotti, che l'aveva inserita nel disco It's From Lincoln Center, destinato al mercato americano, olandese e canadese. Mai nessuno però l'aveva dedicata a un personaggio della caratura di Roger Federer. Un'altra curiosità, beh, che Vasco Rossi ci abbia preso letteralmente gusto con i social network, è ormai una cosa risaputa, visto che il rocker di Zocca, che è suo soprannome, non perde l'occasione di condividere con i fan su Instagram non solo le novità del suo percorso di carriera, ma anche i momenti della sua, diciamo così, stravagante quotidianità. Ecco che in un post, un paio di anni fa, Vasco Rossi si era concesso un piccolo spazio di meritato relax e divertimento tra piscine e idromassaggio, intonando lui stesso proprio la celebre Nessun Dorma, e letteralmente lo ha fatto immerso tra le acque di una cascata artificiale. Beh, dopo questo excursus vorremmo proporvi appunto un brano di Bocelli. Questa volta però cambiamo ancora una volta genere, si intitola Amo soltanto 3, è una canzone molto più recente del 2018 ed è stata interpretata anche in featuring con Ed Sheeran, a riprova di come i due mondi, lirico e pop, possono incontrarsi. A presto allora, buon ascolto, noi torniamo con una nuova puntata.